Riguardo la questione che riguarda la Red Bull Certamente ne sa più di quello che ci ha voluto dire Non ha chiuso la porta E insomma c'è chi continua a dire che sono comunque giorni decisivi Anche se ricordiamolo L'amministratore delegato di Red Bull Italia è stato destinato dal 1 ottobre a Red Bull Francia E pare abbia proposto comunque un interessamento al Torino Se ne discuterà in una riunione CDA del 19 di ottobre pare E poi se sono fiori, se sono rose, fioriranno Però invece al presidente Cario non l'ha mandato a dire Se invertono le squadre di promozione Piccole, no? E non lo fa il Toro E anche sulla questione della fondazione Poi non può pensare il Toro che una volta nata la fondazione Abbia un ruolo marginale Esattamente quello che dicevo in precedenza Il Toro deve avere un ruolo determinante, trascinante in questa vicenda Invece sento sempre Cario che parla paroloni, fiumi di parole Ma stringi, stringi Come quando fa il mercato, la stessa cosa Scusa, se ho ben capito Voi vorreste che Cario si comprasse, facesse lui il campo sportivo a Filadelfia L'ho promesso? L'ho promesso Non è che me lo sono inventato Carcello, parliamo di 5 maggio Trovasse un accordo Non dico acquistare Comunque trovare una formula Come potrebbe essere i diritti di superficie per 99 anni Per l'Olimpico Quindi trovare un accordo di lungo respiro Il 5 maggio Mi sembra 5 o 6 maggio Ah che bella data 2006 5 maggio 2002 mi ricorda 5 o 6 maggio 2006 Giornata di Torino Ascoli No direi del 2007 Nel 2007 Primo anno di Serie A Promozione nel 2006 e 2007 Nel 2007 Proprio dal Giornata di Torino Ascoli Con la salvezza del Torino Marcia Si sarebbe impegnato in prima persona per la ricostruzione Marcia a cui lui partecipò Salendo sui monconi Arringò la folla di 30 mila persone Allora era Papa Urbano Allora era Papa Urbano Adesso mi sembra un Papa destituito Adesso ecco Papa Urbano Allora era Papa Urbano Adesso l'avete conosciuto Che questo non è manco un prevosto L'avete conosciuto no? C'è andato leggero Ci c'è andato leggero Quanto vuole investire il prevosto L'abbiamo visto in questi anni E' secondo voi E' secondo voi E' secondo voi Uno che investe così poco Dentro la squadra C'ha voglia di farvi il campo sportivo al Philadelphia Di comprarvi lo stadio Ma sai quell'intervista Mi sembra uno che ha risolto io Poi di parole Ne ha sempre spese tante cari Allora E aggiungiamo sui sui fatti Su quello che vediamo Te l'ho detto molto chiaramente No, non mi fido Non lo farà mai Non mi fido Non lo farà mai Ma non mi fido per una ragione semplice Marcello Il mio non è preconcetto E aver verificato come sono date le cose in questi cinque anni Purtroppo sempre peggio E allora a questo punto Se tre indizi fanno una prova Come diceva Montanelli Che tu hai conosciuto bene Immaginati dopo cinque indizi Che cosa sono autorizzato a pensare Ma abbiamo tutti gli indizi che vogliamo Quando uno va a comprare quei giocatori Ha messo Petracchi nella condizione Di fare il mercato a zero euro Di non dargli nemmeno un euro Di dire fai quello che vuoi Svendendo E cerca di portare ancora a casa qualcosa Esatto Uno così Vuole comprarsi l'Olimpico Vogliamo dire Fare una cifra sull'Olimpico Quanto costerà l'Olimpico? Una cifra Facciamo una ipotetica L'Olimpico Allora dunque Ricostruire il delle Alpi È costato 110 milioni Abbiamo detto 105 Prendere uno stadio 120 120 Uno stadio costruito così Così io credo che Già costruito E poi le fa poi entrare 30-40 milioni Quanto? Tu dici di meno? Assolutamente di meno Anche perché uno stadio ricreato a Ex Novo nel 2006 Non parliamo della notte dei tempi 20 milioni? 20-25 25 milioni 25 milioni Lui li ha mai spesi per il mercato? 25 ma li ha mai spesi per il mercato? Si mettendo insieme tutti i soldi dei 5 anni forse E neanche E neanche Adesso devo dare la linea Qualche istante nella regia E poi torniamo a parlare Della contestazione Con l'intervista E faremo rispondere Chi probabilmente Avrebbe già avuto ragione Di avere su tutto sport Un diritto di replica Tra poco